Tutti noi ce l'apprendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra Evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta 37esima puntata di Carta Canta A.A.A. Cercasi Ostetrica Vi racconto una storia fantastica Circa un anno e mezzo fa una ostetica in servizio all'ospedale Sant'Omero rimane incinta L'amore è una storia fantastica, favolosa Annuncia ovviamente la sua richiesta di maternità E finalmente la AS di Teramo immediatamente Dal punto di vista proprio dell'amministrazione, dei colletti bianchi Inizia a muoversi perché deve essere subito sostituita Vi leggo Furono ammessi a partecipare all'avviso pubblico Circa 176 aspiranti Vengono pubblicate finalmente le graduatorie Che dureranno 36 mesi Indovinate quando? Pochi giorni fa E l'ostetica in maternità? Beh, ha finito il tempo della maternità È andato tutto bene, è diventata mamma E ora è in ferie, è stata per tornare a lavorare Quindi è stato tutto inutile Inutile la commissione, inutile le 222 domande Inutile le persone selezionate per titoli e per colloquio Non ci credete? Eh lo so, ma succede a Teramo Dato atto per la quale direzione della UOC di ostetrice e ginecologia Aveva chiesto alla sostituzione Ha terminato il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa E che attualmente risulta in ferie Non si cerca più l'ostetica Comunque non vi preoccupate, eh La graduatoria durerà 36 mesi Carta canta